Siamo qua per far valere il referendum che abbiamo vinto, ormai sono dieci anni che andiamo avanti con la battaglia sull'acqua, per un'acqua pubblica, per gestire l'acqua tramite non con le SPA ma con istituti di diritto pubblico svincolati dalle società per azioni, con la partecipazione dei cittadini alla gestione dell'acqua, l'acqua è un bene comune, è inviolabile e come tale lo dobbiamo tutelare. Abbiamo già raccolto le firme per il referendum, abbiamo vinto il referendum e adesso chiediamo semplicemente in tutte le regioni, in tutti i comuni l'applicazione del referendum, quindi quello che ha deciso il popolo sovrano.